Ciao a tutti! Allora, partiamo già male. Io sono Lilli, come sapete, perché mi seguite se state guardando questo video. Se non mi seguite andatemi a seguire, ok? Allora, oggi andrò a provare per la prima volta Gacha Life 2, anche se ho Annalisa che è qui vicino ma che non ci darà fastidio perché io ho già fatto le raccomandazioni. Salve! Salve! Mi ha già spoilerato qualcosa, però non l'ho mai provato, quindi vabbè, qui in alto, termine e condizioni, non ce ne frega niente, l'essordata, lo sapete perché c'è anche su Gacha Life, su Gacha Life è normale. E vabbè, poi in mezzo c'è Gacha Club che è fighissimo, ok? Questa cosa è veramente fighissima. No, sì, ma non ti spengono le racce. E poi praticamente, vabbè, l'unimi e poi qui qua ci stanno le lingue, che c'è l'italiano, quindi adoro. Tanto io poi lo rimetterò in inglese perché sì, questa cosa è fighissima. Top screen. Mi chiede quanti anni ho. Mi ho detto 43 perché non si sa mai. Spero a me per pedofile. Però Annalisa tanto ha messo 11, quindi può mettere anche 11. Vabbè, qui mi dice tutte le cose che poi in inglese perché in inglese se io ho messo italiano non lo so. Vabbè, sì, le stesse cose che dice venga celeste, quindi termini, condizioni. Vabbè. Accetto e continuo. Allora, qui mi dice... Vabbè, questo è un tutorial. Però se vi seguo, fatevelo da soli, nel senso che io so come funziona. Celeste. Ah, giusto, l'ho visto. Che figo! Ah, no, ok, la same. Madonna, che traduzione del cavolo. Allora, leviamo il volume perché mi dà proprio fastidio. Animali! Sì, calma. Allora, già da qui vediamo un sacco di novità, tipo... E qui possiamo mettere 10 personaggi in scena e non 8 come prima. E qui c'è... Madonna. Qui se ne possono fare altri 90. Oh, madonna. Io avevo letto che erano 50. E vabbè, poi giustamente li possiamo scambiare, vabbè, le solite cose. Clicca un attimo. Ma... Oh! Ora c'è arrivata questa. Ti ho detto che non devi dare fastidio. Ok. Il video è mio, non tuo. Allora, dicevamo. E... Che brutto. Allora, poi anche qui invece, nel posto della fronte affermata, c'è una sorta di tablet con le attivazioni. Vediamo. Ah, vabbè, qui ci sono i presets. Che sono carinissimi. Oddio, che cute. Ok, sì, diciamo. Il corpo. Possiamo personalizzare il corpo. Tipo, possiamo mettere anche l'icona. No, vabbè, adoro. Ah, io sono tutta abusata. Vabbè, io metto questa perché ormai ci sono affezionata. Possiamo scegliere fra un sacco di colori della pelle. Tipo, sì, bellissimo. Metti vampiro. Metto vampiro. Ma non è vampiro questo. Ci assomiglia. Questo è vampiro. E possiamo scegliere anche come fare il contorno. C'è, adoro. E c'è anche la grandezza del contorno. Dove? Non qui. Va bene, dopo andiamo a vedere la grandezza del contorno. Madonna. Così è brutto. Sì, perché non si capisce niente. Mento, collo, braccia. Ok, dov'è la grandezza del... Non lo so. Bene. Possiamo fare la testa grossa. Sì, ok, abbiamo capito. Vabbè, puoi farlo anche e modificarlo come ti pare. Tanto non ci riuscirete. Non è vero normale. No, raga. Prego, lasciamolo così. Possiamo farlo alto. No, ho detto alto. Così, guarda, è fantastico. Ok, poi possiamo ruotare la testa, che è una cosa fighissima che... Ok, non lo metto normale. Guarda, c'è su Mildi. Cosa sto facendo? Ok, no, questo qui lo vediamo dopo. Tu persone normali, potrai fare? Ok, sto facendo una persona normale. Ok, sembra normale. Abbiamo capito che queste cose non le devi toccare. Ok, sì, queste cose le lasciamo come sono. Poi ci sono 50 pagine di pose. Allora, qui lo possiamo girare. Figo. Possiamo mettere l'ombra, ma tanto io l'ombra non la metto mai, perché mi sta antipatica. Perché non mi funziona? Mi scusi, perché penso sia questo il contorno della pelle. No, aspetta, io sono parecchio incavolata. Ok, adesso funziona. Possiamo cambiare le mani. Questa cosa è fantastica. Comunque nel sondaggio avete scelto... No, questo è fighissimo. Nel sondaggio avete scelto il video, ma io volevo fare la live. Poteri magici! Il video non ho voglia di editarlo. No, raga, è fantastico. Ci sono 50 pagine di pose in più. Però... Toh, guarda che figo. No, vabbè, adoro. Perché poi sono divisi per gruppi? Eh, certo. Sleeping! Oddio, guarda quante sono! Finalmente voglio dormire in modo decente. Ma sta registrando, vero? Certo che sto registrando. Ti immagini, lo stai registrando. Ok, sì, vabbè, sono 50 pagine di pose, chiedissime. Poi la testa. Madonna, che brutto in italiano. E poi c'è anche... Calma! Sì, ok, ho capito. Vado di caldo. I capelli dietro. Come un bel ragazzetto. Ma no, vabbè, questi sono nuovi. Sono belli! Anna, chi deve fare il video? Tu. No, adoro! Ok, facciamo una femmina. Fedor. No. Perché ho fatto questa cosa di preciso? Ok, no. Che bel nome che c'è. Default66, bellissimo nome. Si può mettere tipo la frange... Vabbè, questo qui già c'era. Però ce ne sono di nuove. Adesso non so, tipo questa mi sa che non c'era. Questa sì. Vabbè, dovevo dire sette pagine. Sì, mi sa di sì. Boh, non mi ricordo sinceramente. Ci sono persone più brave. Ecco, tipo questa non c'era. Ci sono persone più brave che si mettono a fare anche i paragoni. Io no. Questi mi sembrano tutti uguali a quegli altri. In quel momento. Tranne questo. Non c'era questo, non c'era questo, non c'era questo. Vabbè, questa pagina mi sa che c'erano solo questi tre. Quindi questi sono... Questo. Bella la dreccia sotto. Sì, bellissima. Ok, poi c'è la coda. Che sembrano anche queste tutte normali, tranne queste qui. Fino... Oddio. Fino a questa già c'erano. Ma che belli i bambini. Non sono bambini. Sono facce di bambini inquietanti. Sono gatti. Vabbè, poi vabbè. Sì, queste alcune c'erano, altre no. Questa? No. Qual era? Questa è fighissima. Poi vabbè, i ciuffetti sono sempre i soliti, vabbè. Poi... No, aspetta. Qui. Poi gli occhi. Questi possono fare diversi. No, vabbè, adoro. Vediamo tutti gli occhi che ci sono. Oddio. Questi già c'erano, mi sembra. Erano un po' diversi, però c'erano. Non esagerare. Questi... Questi pure, però anche questi erano un po' diversi. Questi anche, tutti un po' diversi sempre. Questo qui, per esempio, era diverso. Sì, erano tutti diversi, però erano così, praticamente. Questi invece sono nuovi, tipo questo, fighissimo. Questo è fighissimo. Sì, sono tutti bellissimi e fighissimi. Allora, buona cena. Sì, sì. Un saluto qua. Ciao. No, sono fantastici. Io ho anche i... I biscotti. Eh? No, sono bottoni. Ok, sì, sono fighissimi. Caroline. Bottoni. Non l'hai visto, vero? No, no. È l'oro più bello che abbiamo visto. Dove per bambini. Sì, sì. Sì, per bambini non è stato così. Sì, ok, sì. E vabbè, sì, sono occhi fighissimi. Io gli metterò, no, ok, occhi decenti magari. Però marroni, non mezzo obiettivo. Ora lo cambio. Questi, perché mi piacciono. E li facciamo ronno. Ma che bello. Così, perché sono fighi. No, possiamo anche fare i sopraccigli diversi. Io adoro. Le pupille ce ne sono un sacco di nuove. Tipo questo. Oddio, che figo. Comunque faccio una premessa. Io per fare i video continuerò ad usare Gashelife normale. Perché questo è veramente troppo complicato. Questo secondo me è più per fare gli edit che io non so fare. No, vabbè. È fantastico. Questi non golecenti. Questi, mi piacciono. Le faccio nere. Eh, sì, carine. Vabbè, i sopraccigli non sono sempre gli altri. Vabbè, ce ne sono diverti. Le mosche che mi volano addosso, via. Non penso che c'erano mosche, ma la zanzara. Quello che è. No, le mosche non fanno così. Le zanzare non fanno così tanto rumore. Possiamo anche toglierle, ovviamente, però no. Sssh. Vabbè, mettiamogli queste. Anche questo bisogna cambiare. Sembra tipo... Indemoniata. Le pupille. No, ok. Come sta? Le ho appena già troppo esagerate. Sì, infatti l'ho messo a caso. Io le facciamo bianche. Sembra vecchia. Zitta. Il video è mio, non tuo. Poi, oddio. Faccia. No, si può mettere il naso. Ah, no, c'è una pagina sola. Perché? Boh. Perché la vedo giusta. Sì, sì, metterò questo. Anche se non penso che il naso sia molto importante. Vabbè, poi la bocca. Vediamo le bocche nuove. Queste già c'erano. Quali? Già c'erano. Erano tutte un po' diverse, però. Ma si può cambiare... No, si può cambiare il colore della bocca, finalmente. Una cosa che ho sempre voluto. Tipo il ciuccio. Posso cambiare il colore del ciuccio, finalmente! Ok, sì. Vabbè, queste qui già c'erano, in realtà. Vampire! Io non tiro il vampiro! Cermese, non tiro il vampiro! Levati! Il video è mio! Eccoli, sentito! Ci sono sempre stati! Non è vero? Sì. Non ti rompio. Vabbè, sì, queste già c'erano, in realtà. Queste no. O forse... Questa forse sì. Non mi ricordo, sinceramente. Adoro! C'è il cibo! Pizza, anguria, sushi, buono. Questa è figa. Hamburger, toast, pollo. Ok, sì, figa. Queste sono nuove. Sì, queste dimmi che c'erano. No, queste non c'erano. Vabbè, sì, sono carine, diciamo. La penna in bocca. Sì, sono tutte... Ah, queste vabbè, quelle animate, ovviamente. Io ho conto un piccolo merdito. La prima volta che sono capitata nelle bocche animate di Caccia Life. Quindi ancora ero proprio noob. Ma, proprio tanto. Praticamente ho pensato, tipo, oddio mo che ho fatto? Dove sono finita? Aiuto. E invece poi, ho capito. Vabbè, c'è il blush. Carino. Che carino! Sono quelle dell'altra moto. Sì, però hanno una grafica più carina. Si può cambiare anche la posizione del blush. Quindi si può... Aspetta, metto quello più... Questo. Così si vede bene. Si può mettere... Ok. E tipo sugli occhi. Tipo ombretto. Questo è ombretto, non è blush. Vabbè, sì, io lo terrerei così. Ah, il riflesso degli occhi. Ah, il riflesso dei capelli. Questo è figo. Questo mi piace. Vabbè, il mento... Il mento è normale, grazie. Il mento è normale, grazie. Gli occhi. Ah, vabbè, sì, questa qui è la cosa di... Ah, figo! Si può mettere da qui l'altra... Cioè, vabbè, avete capito. Ah, tutta nepporella. Ah, si può anche cambiare il colore, ovviamente. Poi, vabbè, i presents... Ah, figo! Ci sono già gli occhi fatti. Vabbè, sì. E poi... No, vabbè, adoro. Si può decidere dove mettere, tipo, i capelli. Devi su. No, così vanno bene. Non so se devono... No, fatti. Vabbè, tipo questi. Si possono mettere più su. O più giù. Ok, no, io li rimetto normali. Vabbè, sì, è fighissima questa cosa. Quindi quando... Però è un po' inutile. Quindi quando ci sono dei capelli con le punte belle, ma sono troppo lunghi, li puoi accorciare. Esatto. Questa cosa... Sì, ok, non è proprio inutile, hai ragione. Ok, sì, vabbè. Adesso i vestiti, che ho visto che ne hanno aggiunti. Perché partiamo dai cappelli, di preciso? Perché la vita è ingiusto. Vabbè. Che bello quel cappello anni 90. Devi stare zitta. Questo è fighissimo! Ok, dopo gli lascio questo, però guardiamo anche gli altri. No, questo è orribile. Questo è proprio orribile, non capisce niente. Vabbè, sì. Oddio, che carino. Vabbè, sì, ce ne sono tanti carini. E nuovi. Questi sono tutti nuovi. Questo è bello. Questo da Pikachu. Per fare il Pikachu meme, finalmente. Questo è quello che si è messo a Martina nell'occhio. che è molto carino. Anche questo, con l'Uni. Anche questo è molto bello. Sì, ma chiudi sta bocca, eh. Qua ti fa fastidio. Chiudi la face. Non sono pratica. Metti quella con l'hamburger. No. Che ho fame. Vai a mangiare. Dov'è quella? Ok, eccola. Vi lascio questa. Dicevamo. Cappello. Bello cappello. Vabbè, sì, questi. Io gli metto quello lì con i gattini. Non mi piaceva. Nero. No, no, no. Così ne. Ok, così. Forse. Che mi piace. Un accessorio. Tipo, queste erano diverse da prima. Vabbè, la zucca. Vabbè, queste c'erano in realtà. Queste no. No, vabbè, adoro. Sì. Oddio. Oddio. Che carino. Oddio. Vabbè, sì. Ma, mi scusi. È bellissimo. Cavallo. Ok, questa cosa è abbastanza oscena. Però va bene. Posso fare Halloween. Sì, posso fare Halloween con un cavallo. Sì, effettivamente fa paura. Gli occhiali. Gli occhiali penso... No, vabbè. Io ho basita. Può fare il meme. Va bene. Questo qui prima non c'era. Questo nemmeno. Tutto il resto c'erano. Magari erano un po' diversi. Questo non c'era. Questo è Harry Potter. È Harry Potter. Magari c'è pure la cicatrice. Io lascio questi perché sono carini. Vabbè, questo l'abbiamo già visto. Accessorio a metà. Questi già li abbiamo visti. Accessorio a metà. Un altro. Accessorio parte inferiore. Vabbè, sì, è normale. Ma sono tutti uguali. Forse... Oh, ma che bella l'aureola. Anna. Di chi è il video? Di l'aureola. Di chi è il video? Mio. Tu. Chi non deve parlare? Io. No, vabbè. Sono troppo carine queste cose. Vabbè, queste qui si ripetono probabilmente perché è normale, siccome l'applicazione è nuova e uscita oggi. È normale che sia abbastanza baggata. Accessori. Ah, questi sono normali. Quattro. Questi qui già c'erano quasi tutti. Uh, c'è la mascherina. C'era pure prima. Sì, ma non così. Eh, c'era tipo così prima. Ok, gli metto la mascherina. Che carina che è. La sciarpa. Queste mi sembrano uguali per ora. Sì, sono quasi tutte uguali. No, le crivette sono diverse. No, le crivette. C'era anche quella slacciata. C'era anche prima. No. Sì. No, vabbè, che fighe le cuffie. Gli cambio il colore. Le metto rosse. Perché mi va di mettere le rosse. Ci sto molto bene. Sì, sì, grazie. Vabbè, sì, cose nuove. Bene. Ok, accessori per il viso a metà. Vabbè, questi già li abbiamo visti. Questi pure. È abbastanza baggata. Il logo della camilla. No! Aspetta, adesso gli cambio un attimo la posa. Si può... No, esplodo. Ma io adoro. Gli metto il terreno. Questo mi piace. No, gli metto quello di Luni. Ma che bello! Ma che bello! Sì, ok. Vabbè, la maglia. E lo fate nuove. Questa è nuova. Questa era diversa prima. Tutto il resto mi sembrano uguali. Queste anche mi sembrano uguali. Questa, figa! Pure quella di la sirenetta. Quale? A sinistra. Questa già c'era. A sinistra! Ah, figa questa. Sì, queste sono carine. Queste. Fica. Queste qui sono tutte nuove. Carinissime. Le maniche, vediamo le maniche nuove. Oh, eccole. Da qui cominciano, mi sembra. Queste. Ok, sì. Poi. Queste. Vabbè, diciamo che le maniche potevano essere un po' meglio, secondo me. Però ci stanno. C'è la giacca, la giacca, la giacca. Sorry, sorry. Si possono mettere i giacchetti, è vero. La giacca. Vabbè, sì, i giacchetti molto carini, però per esempio questa qui è la felpa che non c'è nei vestiti. Adesso. Ok, li lascio così perché mi piace. Cintura o gonna, vabbè, le gonne, vediamo. Queste sono nuove. Per cui. La maggior parte sono nuove. Puoi essere una sirena. Che bella. Devi stare zitta. Ma tu già l'hai usato, caccia, la F2, quindi cosa vuoi? Puoi essere ancora di più una sirena. Aia, mi fai male. Ma che è sta cosa di preciso? Che? È fissile. È una molla, ok. È quello del videoclip di Melanie Martinez. Non è vero. È simile. Ma non è vero. È simile. Sì, sì, vabbè, hai ragione tu. I pantaloni. Che si possono fare uno diverso dall'altro. Non ci sono i jeans. Non ci sono i jeans. Anzi, eccoli. Anche il contorno dei jeans. Il contorno di tutto in realtà si può fare. Posso metterli anche questi. Possono cambiare i janzini a parte. No, vabbè, adoro. No, vabbè, adoro. La scarpa è una. Queste già c'erano. Queste no. Queste alcune sì, alcune no. Tipo queste non c'erano. Se ci sono i patti, mi sclero. Perché nell'altro non c'erano. Non ci sono. Peccato. Ah, sì, ci sono. Basta, la mia vita è completa. Ok, lasciamo gli pattini. No, ho sbagliato. I mantelli, vabbè, sinceramente, dei mantelli ce ne frega poco. Nel senso, chi ha che mette i mantelli? Il colore, la canzone di Harry Potter. Qui sì, vabbè, sì, abbiamo detto i mantelli. Le ali. Che, allora, sono fichissime. Però anche queste, di solito, si usano solo tipo queste, 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 queste. Poi basta, non le usano più. Però queste sono fiche. Le ali di spade sono fiche. Quali? Le ali di spade. Dove? Non sono spade. Queste sono spade. Ah, sì, fiche. Quelle c'erano anche prima, però. Fiche! Queste sono fichissime, quindi penso che gliele lascerò. Anche queste. Oh, no, non è vero. Ok, sì. Queste sono. Dove stavano quelle che mi piacevano? Dove stavano quelle che mi... Eccole. Viola, dici, ci stanno? Sì. Ok, estra. Quindi, le spalle. Cosa c'entra? Ok, questo non l'ho capito. Ok. Madonna, che la traduzione fa un po' pena. Ah, vabbè, questi sono tipo i guanti. Tipo? Sì, perché non sono tutti i guanti. Vabbè, sì. Carino. E ginocchio. Possiamo mettere le cose alle ginocchia. Lol. Che io non metterò perché non mi piacciono. E vabbè, poi... E poi... Che possiamo decidere dove mettere le cose. Poi, altro. La mia parte preferita. Perché ci stanno gli animali. Vabbè, i prupp. Quindi, questo. Adesso, questi c'erano anche di là. Non so se hanno aggiunto qualcosa di nuovo. Non so se la chitarra prima c'era. E... Boh, sì. Sembrano le stesse cose di prima, per ora. Per ora. Però ci sono... C'è qualche pagina in più. Quindi, per esempio, hanno cambiato questo. C'è un telefono diverso. Un ombrello. Due ombrelli. Comunque è carino. Aia, mi fai male. Au. Mi tiri i capelli. Vabbè, una foglia. Un altro telefono. Una racchetta da tennis. Dei fiori. Un... Cos'è questo, secondo te? Una cosa per uccidere le persone. Aia! Una cosa per uccidere le persone. Probabile. Ok. Un... Palla da fuma. Non mi penso male. Un oioio. E questo penso male. Chi tira una capocciata. E... Dicevamo... Un gelato. Un... Vabbè, fiori. Il cactus di Bella. Un... Com'è che si chiamava questo? Bonsai. Un bonsai. Una... Vabbè, sì. Cose. Cose molto frutture. Un'altra raccetta. I marshmallow! Sì, bellissimi. Libro aperto. Sì. Uh, ma che è sta cosa? Cioè, questa. Oh! Un... Un forcone. Questa. Cos'è? Tipo quella della legente. Ok. Che serve a guardare il futuro della legente. Pistola. Questa. Non è dubbio. Ne dubito. Ok, vabbè. Si arredi gli scudi. Queste cose già le conosciamo. Tanto gli scudi non li usa nessuno. Gli effetti. No, aspetta. Ferma! Che cos'è tutta questa roba qui? Ah, mi scusi. Prendiamo un coltello a caso. Ecco, cos'è tutta questa roba qui. Ah, vabbè. Questi qui sono quelli di destra. Quindi... Vabbè, sì. Questo. Oh. Gli effetti. Così, qui sono complicati. No, vabbè. Adoro. Questi qui sono fighissimi. Altro che complicati. No, vabbè. È fantastico. Eh, muovi sfido a scegliere. Gli ama. Questo. È fantastico. Questo. Mi piace questo. Vabbè, devo sistemare. Vabbè, lo metterò così. Questo non capisco così. Va bene. Possiamo nascondere le cose. Penso che serva per fare gli edit. Che figo. Penso che serva per fare gli edit. Ok, sì. Però rimettiamo le cose. Così, può fare quelle persone... Le chat. Vediamo cosa è cambiato nelle chat. Ah no, penso che per scrivere bisogna andare nello studio che proveremo dopo. Poi dite, siamo a 30 minuti di video. Ecco perché io voglio fare le live. Ok. Fico questo. Vabbè, le motte le togliamo, grazie. Ehm, vabbè. Ehm, vabbè. Sì, queste qui sono cose sulle quali dei togliamo, però si può cambiare tipo la lì, è bighissimo. Però vabbè, non sceglierei com'è. Questo, ovviamente, vabbè, che c'era anche prima. Questo, non ho capito bene cosa ho fatto. Il colore del nome che io non metto mai, quindi... Boh. Non so cosa mi servirebbe cambiarlo. Che cosa la prossima è la cosa più bella? La cosa più bella. Gli animali! No, vabbè, adoro. Che carino! Cioè, ti possono far parlare anche gli animali. E li puoi sistemare con il commento. Sì, no, vabbè. E' un furetto. No. No, vabbè, adoro. Oddio, mi sciolgo. Questi qui sono, vabbè, questi sono un po' orribili. No, vabbè, adoro. E' il gatto, il gatto. Che carino! Ok, io lascio il gattino. Il colore. Voglio un gatto viola. Posso? No. Sì, il mio... Ah, non, anzi, no, faccio polvere. Il mio gatto. C'è una sfumatura tendente al grigio. Per il rigontone. Ci sta. Lui c'ha gli occhi verdi. Non è vero, ce li ha gialli. Davvero? Sì. Ah. Vabbè, cioè, si può mettere anche... Ok, sì, questo gioco è praticamente... È molto... È complicato, quindi... Ma è meglio questo che l'altro. Sì, ma è troppo complicato per fare i nomi. Si può mettere il nome? Ok, io che mi raccoglio. Perché è il mio gatto. Non so se si potesse. Sì, si vede qui. Io lo metterò qui. Poi... Sì, i gatti che volano! Sììì! Ok, sì, mettiamolo giù, grazie. Vabbè, sì. Vabbè, sì, le solite cose. Aia, mi fai male. Vabbè, sì, le solite cose. Possiamo cambiare il colore del nome. Vabbè, sì, questo. Poi gli oggetti, tipo una... Cos'è? Una macchina. Una batmobile. Bellissima! C'è un cesso. Mettiamo il cesso, però non so dove si vede. Quindi... Ok, ho fatto un casino. Sì, è. Oggetti, vai. Mettiamo la slitta di Babonata. Ok, sì, questa qui non so dove si vede. Probabilmente è nello studio. Però va bene. Poi c'è il profilo. Il nome. Come la chiamiamo? Lizzie. Perché? Lizzie. Non lo so, mi è passato di niente Lizzie. Il compleanno e l'età poi... Quello c'era anche nell'altro. Il personaggio preferito di questa. Questo. Club preferito. Club gacha. Club... Wings! Wings! Dove? Ma molto agli sta. No, adesso è bene gamer. Ok, sì, vabbè. Non mi va di mettermi a personalizzare... Di personalizzare tutte le cose. Però vabbè. Vedite. Sì, vabbè. Ma sono le solite che stavano anche su Gacha Life. Creato da... Vieni. Perché non ho i soliti del profilo completo? Questo. Personalità! Sì, ma questo c'era già anche in Gacha Life normale. C'era cibo preferito. Il favorite color che non c'era. Sì, che c'era, Anna. C'era tutto. Cambio il lista, cavolo, di icona. No. Bruttata. Più contenta? Brava. È sopra lo studio. Eh, sì, vabbè. Ma siamo a mezz'ora di video. Secondo te c'è ancora qualcuno che ci sta guardando? Oddio. Probabilmente. No. Ma che figata che può mettere tutte quelle persone. Non si muova? Ok, sì, eccola. Cosa non si muova? Background. Eh? Ma sono di me... Ah, no, ok. Insomma. Ce ne sono nuove. Sì, ma questa cosa è veramente... No, è troppo complicato fare i video con una cosa del genere, raga. Non penso ci sia qualcuno che lo farà veramente. Ma che figata. C'è una lavanderia. Perché? Dovrebbero aggiungere alcune cose in Gaccio Life, però... Cioè, usare questa per fare i video è proprio una cosa quasi impossibile. Però è una di figli. Sì, ma ci metti due anni e mezzo. Vabbè, si possono aggiungere anche gli animali qui. Oddio, che figo. Voglio tanti animali. No, si può mettere anche il narratore, guarda. Eh? No. Ciao. Non so dove lo mette, però. Oh, mettilo. Metti su un narratore. Sta cosa è un po' strana. Perché non te lo mette? Ah, eccolo. Vado a vedere come lo mette. Me l'ha messo, così, guarda. Ma che figo. Beh, oddio, mica tanto. Puoi raccontare le leggende così. Sì, ma preferisco farlo come si faceva prima. Vabbè. Tanto adesso qui non ci sarà arrivato nessuno. Oddio, c'è il 14% di batteria perché siamo a 35 minuti. Però, in caso, se qualcuno è arrivato qui, commentate con hashtag Lizzie e il gatto nero. Tutto attaccato qui. Vabbè, scrivetelo come vi pare. Lizzie e il gatto nero. Per questo video è tutto. Se volete altri video su Gacha Life, cioè, su Gacha Club o Gacha Life 2, scrivete nei commenti, ovviamente, usando l'hashtag Lizzie e il gatto nero. E niente. Iscrivetevi, attivate la campanellina, lasciate like e condividete il video. E lasciate il commento con scritto hashtag Lizzie e il gatto nero, che la smetto. E niente. Non ho nient'altro da dirvi. Se siete arrivati fin qui, vi stimo. Non so come avete fatto a sopportarmi. E niente. Ciao!